Musica Buonasera dal TG6, apriamo parlando dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo e pace fatta con la compagnia irlandese low cost Ryanair che dopo l'incontro con il premier Renzi e il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio annuncia un piano di investimenti su tutta la nazione e soprattutto l'introduzione di 44 nuove rotte compresa anche quelle per Pescara, vediamo Buone notizie per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo dopo l'ufficializzazione del governatore che aveva rassicurato sul ripristino delle vecchie rotte sospese e dell'introduzione progressiva di 7 nuove destinazioni arrivano anche le dichiarazioni confortanti di Mistoliri, amministratore delegato della low cost irlandese che proprio oggi ha dichiarato siamo estremamente grati al primo ministro Matteo Renzi e al ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio per aver preso questa iniziativa per incrementare il turismo in Italia cancellando la tassa municipale sui voli e la revisione delle linee guida sugli aeroporti il ministro Del Rio ha proseguito Liri, ha sfidato le compagnie a rispondere con piani di crescita se il suo governo avesse agito per migliorare la competitività degli aeroporti italiani e noi siamo lieti di essere la prima compagnia aerea annunciando il nostro più grande investimento in Italia la low cost irlandese infatti presenta il piano di investimento nel dettaglio un miliardo di dollari in 10 nuovi aeromobili, 44 rotte grazie alle quali il traffico aumenterà del 10% passando da 32 milioni di passeggeri del 2016 a 35 nel 2017 decretando di fatto Ryanair prima a violine in Italia aumenti previsti anche per i posti di lavoro che saranno implementati di 2250 unità a commentare il buon esito delle trattative arriva anche il ministro all'infrastrutture Graziano Del Rio che spiega come il governo italiano sia continuando il suo percorso di allineamento alle norme europee norme che per inciso avevano creato la dipartita di Ryanair bloccando di fatto tutti i finanziamenti di Stato nei confronti delle regioni grazie all'investimento garantito dalla compagnia di volo spiega si aprono più opportunità al turismo in Italia e soprattutto più occupazione salvi dunque dopo non poche preoccupazioni l'aeroporto di Alghero e quello di Pescara già da questa settimana infatti i voli torneranno in vendita ora ci spostiamo all'Aquila dopo la sentenza di primo grado di assoluzione per gli imputati nel processo legato all'appalto per i lavori di ricostruzione della questura la procura ha annunciato la volontà di presentare appello ce ne parla Giorgio Alessandri gli imputati che a vario titolo si sono occupati dell'appalto di ristrutturazione post terremoto della questura dell'Aquila vanno condannati lo sostiene il procuratore protempore della Repubblica dell'Aquila Stefano Gallo in relazione alla sentenza assolutoria di primo grado sull'inchiesta del presunto innalzamento dei costi di ristrutturazione dell'edificio lievitati da 3 a 18 milioni a dover affrontare verosimilmente un nuovo processo in corte d'appello Giuliano Genitti all'epoca dei fatti responsabile del procedimento Lorenzo De Feo direttore dei lavori e l'ex provveditore Giovanni Guglielmi e Carlo Clementi rappresentante dell'amministrazione per conto della quale aveva sottoscritto il contratto con la ditta secondo il PM i 4 avrebbero violato le normative in materia di appalto pubblico fra tutti quelli della libera concorrenza che avrebbe permesso senza alcuna gara di far lievitare i costi del 455% e che portarono al secondo contratto di riappalto senza alcuna gara violata sempre secondo il procuratore capo anche la norma che permette di derogare al principio di evidenza pubblica quando l'estrema urgenza non è compatibile con i termini imposti dalle procedure del bando di gara inoltre si è omesso di considerare in sede di iniziale progettazione dell'intervento la necessità dell'adugamento sismico delle strutture dell'edificio circostanza prevedibile facendone invece oggetto di un secondo progetto per 18 milioni e mezzo sempre secondo Gallo ricorre nell'atto impugnato anche il dolo che sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni rese dallo stesso ex sindacato del procedimento Franco Braga che ha fatto parte del comitato tecnico amministrativo in relazione alle opere della questura secondo cui lo stesso Giovanni Guglielmi membro dello stesso CTA gli avrebbe dichiarato l'intenzione di assegnare i lavori alla Inteco poi sostituita da altra società ora passiamo alla cronaca tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull'autostrada 25 che ha coinvolto due veicoli nel tratto Chieti-Villanova in direzione Pescara sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 la polizia autostradale e il personale della concessionaria strada dei parchi due dei tre feriti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Chieti e il terzo con l'elisoccorso all'ospedale di Pescara il traffico ha subito rallentamenti e sulle cause dell'incidente indagano gli agenti della polizia autostradale del distaccamento di Pratola-Peligna continuiamo con la cronaca e parliamo di una truffa piazzavano inserzioni sui siti di compravendita online per cedere costosi accessori da bici da corsa a prezzi decisamente concorrenziali una volta ricevuto l'accredito del denaro su una carta prepagata dopo aver condotto trattative telefoniche sparivano nel nulla senza spedire la merce protagonisti della vicenda un 19enne romeno residente nel Terramano e un trentenne albanese residente nel Pescarese scoperti dai carabinieri di Carpinetti nel Reggiano e denunciati per il reato di concorso in truffa a far scattare le indagini dei militari una 45enne reggiana che vista l'inserzione sul web ha concordato l'acquisto di due ruote per la sua bici da corsa per un importo di 320 euro riuscendo a contattare l'utenza telefonica associata all'annuncio la donna si è rivolta poi ai militari che dopo alcuni riscontri tra l'IP del computer utilizzato per l'annuncio la carta prepagata dove erano confluiti i soldi e l'utenza telefonica attraverso la quale correvano le trattative sono risaliti al 19enne ideatore dell'annuncio e anche titolare della carta prepagata lettera aperta del vescovo di L'Aquila Monsignor Petrocchi che interviene nella vicenda giudiziaria che vede coinvolto a Trieste l'ex parroco di Pizzoli Don Piccoli il vescovo metropolita auspica che il prelato accusato di omicidio volontario aggravato possa dimostrare la sua innocenza Alfredo Primante Con profondo dolore ha preso la notizia che Don Paolo Piccoli, sacerdote incardinato nel presbiterio di questa arcidiocesi ma da sei anni rimorante fuori dal territorio aquilano è indagato dalla magistratura con l'accusa di omicidio a danno di un anziano sacerdote di Trieste non ho avuto mai modo di incontrare personalmente Don Piccoli che con il permesso del mio predecessore Monsignor Molinari da novembre 2010 ha lasciato questa comunità ecclesiale per riavvicinarsi al suo ambiente di provenienza da quanto mi è stato riferito però tale decisione fu presa perché le drammatiche difficoltà del post-sisma interferivano negativamente sulle sue condizioni di salute lo scrive in una lettera aperta l'arcivescovo metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi commentando la notizia che vede indagato un parroco che prestò il suo ministero nell'Aquilano relativa all'omicidio del sacerdote 92enne Giuseppe Rocco originario di Barbana d'Istria trovato cadavere due anni fa nella sua stanza al secondo piano della casa del clero di Trieste di via Basenghi inizialmente si era ipotizzata la morte naturale ma poi i risultati del RIS di Parma hanno fatto cadere i sospetti su Don Paolo Piccoli che per diversi anni è stato parroco di Pizzoli alcune tracce ematiche rinvenute nella stanza della vittima parterrebbero infatti proprio a Don Paolo che filo ad un paio d'anni fa viveva nella stessa casa del clero ora incriminato per omicidio volontario aggravato nell'ambito di un'inchiesta che inizialmente lo vedeva solo come testimone l'udienza preliminare nei confronti del religioso originario di Verona è stata fissata al prossimo 13 dicembre inoltre continua Monsignor Petrocchi che si appella alla presunzione d'innocenza per tutti gli indagati con tutto il cuore spero che Don Paolo Piccoli possa dimostrare la sua estraneità ai fatti delittuosi che gli vengono contestati per quanto mi riguarda conclude Petrocchi con l'intera chiesa aquilana c'è la ferma volontà di dare ogni apporto perché venga fatta giustizia e sia tutelata fino in fondo la legalità La prossima settimana verrà celebrato per la prima volta in Abruzzo il matrimonio gay con rito civile allora noi abbiamo ascoltato il primo cittadino Con il sindaco di Lorito di Spoltore parliamo di questo primo matrimonio civile che ci sarà a Spoltore il 22 agosto una notizia comunque che ha fatto un po' il giro di tutto l'Abruzzo sarà proprio la città che lei presiede sindaco ad ospitare questa cerimonia Noi abbiamo semplicemente dato seguito a quella che la legge prevede quindi so che altri comuni in Italia hanno già fatto mi dicono che siamo il primo comune d'Abruzzo ma sicuramente a breve si aggiungeranno anche altri abbiamo dato seguito a quella che è una nuova legge per quanto riguarda le unioni civili Non sarà lei a celebrare il matrimonio però tanti sindaci hanno avuto qualcosa da ridire su questi matrimoni invece qui a Spoltore da questo punto di vista non ci saranno problemi Ma assolutamente no perché la legge noi dobbiamo dare seguito alla legge guai se non facessimo questo non rispetteremmo la legge questa è la legge ognuno ha le sue opinioni rispetto alle leggi ma comunque vanno fatte rispettare ed applicare Quindi qualora dovesse esserci la possibilità nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di celebrare un matrimonio con rito civile qui a Spoltore non ci saranno problemi da questo punto di vista? Assolutamente no non ci sono problemi così come non ci sono problemi per altri matrimoni Il 27 giugno 2015 andava a fuoco con un incendio doloso la discarica abusiva di Colle Martone arrivano buone notizie dall'Arta che dicono inquinanti nella norma il progetto di bonifica però resta il palo ancora per la mancanza dei 500 mila euro necessari vediamo Arrivano dati rassicuranti dai prelievi effettuati dall'Arta nella discarica abusiva di rifiuti di Colle Marcone di Chieti andata a fuoco per un incendio doloso il 27 giugno dello scorso anno l'Agenzia regionale per l'ambiente e il territorio ha esaminato l'acqua piovana caduta sul terreno e i campioni di terra prelevati nella discarica nel primo caso i parametri chimici di base i metalli, gli idrocarburi e i solventi organici sono risultati nella norma stessa cosa per i campioni di terreno dove l'Arta ha cercato metalli, solventi idrocarburi, policiclici, aromati tutto entro i limiti di legge a rendere noto il contenuto delle analisi è stato il comune di Chieti il sindaco Umberto Di Primio infatti aveva chiesto che venissero analizzati gli inquinanti dell'impianto che ricade nel comune capoluogo e che è al confine con quello di Bucchianico risultati confortanti dice il primo cittadino che attende che l'Arta invii i codici CER dei rifiuti stoccati in modo da avviare il progetto di recupero proprio quello della bonifica e del recupero del sito è l'aspetto più complesso ma anche il più urgente ed atteso dai cittadini preoccupati anche per la situazione d'abbandono della discarica abusiva per bonificare l'area servono tra i 450 e i 500 mila euro che dovranno essere utilizzati per prelevare e classificare i rifiuti presenti per smartirli e per mettere in sicurezza l'area interessata il comune di Chieti ha le casse in rosso e quindi si guarda i fondi regionali che per il momento non sono stati ancora stanziati e arrivano le prime reazioni proprio all'annuncio di quelli che sono stati i risultati dell'Arta siamo lieti che i risultati delle analisi effettuate dall'Arta restituiscano una situazione di tranquillità sui terreni interessati dall'incendio che ha interessato la discarica Colle Marcone ma non possiamo dimenticare che quella discarica doveva essere bonificata molto prima che venissero appiccate le fiamme i consiglieri comunali di Chieti del Movimento 5 Stelle Ottavio Argenio e Emanuela D'Arcangelo continuano ad esprimere un giudizio fortemente negativo su quelli che ritengono essere comportamenti omissivi gravi e colpevoli da parte delle istituzioni preposta ai controlli alle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica Torniamo all'Aquila verrà esaminato entro ottobre il project financing da 100 milioni di euro per l'ampliamento dell'ospedale San Salvatore Un project financing da 100 milioni di euro per ampliare l'ospedale San Salvatore e renderlo più funzionale alle esigenze di operatori e pazienti è quello finito sul tavolo del manager dell'ASRE dell'Aquila Rinaldo Tordera è presentato da due aziende l'Aquilana Mancini e la Guerrato che nel capoluogo gestisce la manutenzione degli alloggi del progetto case e in modo gli abitativi provvisori mentre nel post-sisma ha ristrutturato tre padiglioni proprio dell'ospedale regionale entro il prossimo 28 ottobre gli uffici tecnici dell'azienda sanitaria dovranno valutare il progetto di finanza ed esprimere interesse o meno sull'ipotesi progettuale avanzata dalle due ditte in caso di interesse la parola finale spetterebbe alla regione già alle prese con un altro project financing quello da 400 milioni a cavallo tra Chieti e Pescara gli interventi proposti sull'Aquila sarebbero meno onerosi e invasivi oltre alla cifra 100 milioni si parla di realizzazione di nuovi parcheggi anche sotterrani la vera spina nel fianco del San Salvatore una nuova palazzina per ospitare degli uffici e la copertura del violone centrale che assumerebbe la connotazione di un vero e proprio spazio attrezzato in cambio la Guerrato chiederebbe di gestire i servizi per conto dell'ospedale come mensa polizia e manutenzione nelle prossime settimane si saprà quali saranno gli orientamenti dell'Asla che già nel 2011 sotto la guida di Silveri aveva presentato un progetto da 70 milioni per il rinnovamento della struttura ospedaliera ma non se ne fece nulla un gemellaggio tra Francavilla e la Serbia a breve verrà siglato in occasione di un francavillese che proprio lì ha portato la sua impresa e allora il sindaco di Francavilla Antonio Luciani parla di tutte le potenzialità di questa nuova unione vediamo con il sindaco di Francavilla Antonio Luciani parliamo di un'iniziativa che avete messo in campo che svilupperete anche nelle prossime settimane un gemellaggio importante con una città della Serbia un gemellaggio importante a livello turistico ma anche commerciale e imprenditoriale sì perché un nostro imprenditore un francavillese puro sangue Giuseppe Verna ha aperto uno stabilimento lì in Serbia lui ha anche un'attività qui in Abruzzo un'attività molto rilevante che lavora con parecchie multinazionali ora questa cosa lo renderà più competitivo e quindi conserverà non solo la forza lavoro in Italia ma appunto l'intelligence la testa sarà qui da noi da qui ci siamo conosciuti con il sindaco serbo andrò a settembre ad inaugurare questo stupendo stabilimento loro vogliono intrattenere rapporti con noi noi abbiamo da offrirgli il nostro turismo il nostro mare il nostro commercio loro hanno da offrirci tanto quindi nel mondo della globalizzazione si va avanti così e Francavilla segna questo punto importante anche a livello turistico far conoscere Francavilla fuori dai confini regionali e italiani importante tra l'altro nei paesi diciamo dell'Europa dell'est dove si sta sviluppando anche un turismo che porta verso l'Italia eh sì anche perché anche perché sono di fronte a noi praticamente sono nostri vicini di casa al di là dell'Adriatico ci sono loro e noi siamo ben lieti di sviluppare delle relazioni con la Serbia con gli amici serbi speriamo che questo primo approccio sarà appunto il primo di una serie infinita di relazioni Mancava da 11 anni il 19 agosto proprio a Francavilla torna la festa dell'unità sentiamo Francavilla ospiterà il 19 agosto la festa dell'unità siamo con il segretario provinciale del PD di Chieti Chiara Zappalorto per parlare di questo evento come mai questa location e tra l'altro è la prima volta che si tiene la festa dell'unità dal 2005 è la prima volta faremo la festa a Francavilla c'è a Francavilla un partito nuovo vincente forte radicato coeso che ha deciso di palesare questa voglia di stare insieme con la festa dell'unità che è il momento massimo di incontro politico del PD e la prima volta sarà un momento bello di condivisione di politica di gastronomia di musica quindi vi invitiamo vi invitiamo a partecipare piazza 4 novembre sarà la piazza che ospiterà questo evento sarà un momento anche per parlare a livello politico di quello che sta accadendo in Abruzzo lei parlava proprio di Francavilla dove c'è stata la netta vittoria del sindaco Luciani sì la vittoria di Francavilla è stata una delle vittorie più belle sicuramente in provincia di Chieti devo dire che ci siamo difesi bene c'è stato un bellissimo momento di vittorie alle ultime amministrative ecco parleremo di politica parleremo di Abruzzo e parleremo del futuro e soprattutto parleremo di referendum che è il prossimo appuntamento che avremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi quali saranno gli ospiti che parteciperanno a questa festa? sarà una cosa molto locale quindi ci saranno i nostri consiglieri regionali i nostri amministratori locali i dirigenti locali che vedete dietro di me sarà una cosa per incontrare per consentire a noi di incontrare i nostri iscritti i nostri militanti i nostri simpatizzanti e per condividere i nostri progetti per il futuro Loro Rosso stiamo parlando dello Zafferano che sarà protagonista della seconda edizione della festa dei Solchi con l'apertura del primo solco per accogliere i nuovi vulvi di Zafferano si aperta ufficialmente la stagione di semina dell'oro rosso sulla piana di San Pio delle Camere i primi a depositare il prezioso seme sono stati i giocatori della Gran Sasso Requi tre giorni di festa tra musica mostre mercato e prodotti tipici per rinnovare la magia della tradizione della coltivazione dello Zafferano simbolo internazionale dell'Aquila la seconda edizione della festa dei Solchi organizzata dall'associazione Le Vie dello Zafferano festeggia anche il primo anno della Banca dello Zafferano una scommessa dell'associazione per allevare nuove generazioni di coltivatori dell'oro rosso d'Abruzzo cresce la produzione dello Zafferano cresce la produzione dei vulvi quest'anno anche io ho raddoppiato i vulvi che ho seminato l'anno scorso cresce anche la manifestazione non ci saranno come l'anno scorso una serie di soltanto una serie di concerti itineranti nella festa dei Solchi ma ci saranno anche due giorni di attività a San Pio delle Camere il 18-19 agosto la festa dei Solchi apre il calendario delle manifestazioni della perdonanza celestiniana che culminerà con l'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio il prossimo 28 agosto e apriamo la pagina dello sport parlando delle Olimpiadi di Rio e del volley perché gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno battuto in semifinale del torneo di beach volley alle Olimpiadi di Rio per 2 a 1 la coppia russa composta da Krasislnikov e Semenov assicurandosi così il diritto di giocare la finale per loro medaglia sicura per l'Italia e il risultato storico per i colori azzurri che mai erano arrivati così in alto un'Olimpiadi in questo sport a sperare nell'oro e tutto l'Abruzzo in particolare Ortona dove è nato Nicolai Paolo per gli amici Paolone alto 2 metri e 3 centimetri un peso di 96 kg ha compiuto 29 anni lo scorso 6 agosto e l'ortonese è sicuramente il più forte giocatore italiano di beach volley e ora invece parliamo di serie A e di pescare del debutto per il nuovo campionato il match è quello con il Napoli e intanto salta l'arrivo di Gaston Silva dal Torino frenata per Trotta e Aquilani il Pescara lavora anche su altre piste e intanto è partita la corsa al biglietto per il match del 21 agosto sfuma l'arrivo in riva all'adriatico del difensore Gaston Silva il centrale uruguaiano del Torino sarà girato in prestito al Granada e non al Betis Siviglia altro club interessato al giocatore intanto resistono le alternative di Guzmix Pisacane e Regini sempre per quanto riguarda il reparto arretrato quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva invece per l'ingaggio del 23enne esterno d'attacco all'occorrenza anche prima punta Jean-Christophe Backback in prestito dal Paris Saint-Germain e consigliato al Pescara da Marco Verratti il Delfino aspetta una risposta la società bianca-azzurra richiesto poi ufficialmente al Napoli Grassi centrocampista di qualità e quantità una mezzala utile per completare il reparto centrale in stand-by anche l'affare Aquilani il 32enne centrocampista deve risolvere infatti prima il suo contratto con lo Sporting Lisbona rallentata anche la trattativa per l'attaccante trotta a Sassuolo è arrivato Matri con gli emigliani che contano ora di sfoltire la rosa Dario Zuparic intanto ha rinnovato fino al 2020 con il Pescara e la squadra prosegue la preparazione in vista della gara con il Napoli contro i partenopei non ci saranno Fornasier Campagnaro e Nicastro già in vendita i biglietti per il match con la formazione dell'ex Maurizio Sarri si punta al primo sold-out della stagione allo stadio Adriatico ora invece ci sentiamo le dichiarazioni pre-gare in vista proprio del match con il Napoli dell'estremo difensore Bizzarri La prima partita sempre ci sono tante aspettative di come sta la squadra di come affronta il campionato vincere è sempre importante perché ti dà un attimo di fiducia per tutto quello che abbiamo davanti io penso che la squadra ha fatto una bella partita ma abbiamo sofferto soltanto nel secondo tempo qualche minuto che lì magari dobbiamo gestire meglio la palla di fare correre a loro e no che di correre noi però in linea generale penso che la squadra ha fatto una buona prestazione siamo contenti fiduciosi e speriamo con tanta voglia tutto quello che viene sappiamo che ovviamente il Napoli è sul campione d'Italia quindi sarà più difficile del Frosinone però noi andiamo partita dopo partita il Pescara ha un'identità di gioco non dobbiamo pensare che perché viene il Napoli già la partita è perso assolutamente la partita bisogna giocarle bisogna affrontarle con l'espirito giusto ancora c'è di migliorare sicuramente migliorare anche con il passo delle partite con il passo del tempo e continuare in questa linea con questa idea e tutti i convolti che è lo più importante Pronto per l'esordio in Coppa Italia anche l'Aquila che sfiderà il Monterosi Per l'Aquila Calcio non ci sono prove d'appello l'obiettivo è vincere il campionato per recuperare subito la Lega Pro dopo una retrocessione amara il suo dalizio rosso-blu è stato chiaro la scelta di mister Massim Morgia lo testimonia uno staff tecnico di primo ordine e una squadra composta da tanti uomini di mister Morgia che con lui hanno vinto campionati e ottimi under molti dei quali provenienti dalla Berretti rosso-blu ma alla squadra che comunque è stata buona impressione nelle prime uscite amichevoli manca ancora qualcosa e il presidente Chiodi ha chiarito che si faranno ulteriori acquisti nei prossimi giorni per arrivare completi a Coppa e campionato domenica prossima infatti si va a Viterbo per affrontare il Monterosi con pagine che poi l'11 rosso-blu si ritroverà anche il 4 settembre per la prima di campionato in casa il Girona F sembra più abbordabile rispetto agli altri con molte trasferte in Sardegna ma comunque ci sono squadre ben attrezzate un esempio la formazione del Rieti e poi sarà di nuovo a Derby dopo tanti anni con l'Avezzano dal punto di vista societario a giorni verranno ufficializzati nuovi soci che entreranno con il 5% mentre si continua a lavorare per avere lo stadio d'Acqua Santa entro il mese di settembre a giorni verrà siglata la convenzione per l'affidamento e sembrano superati anche gli altri problemi del resto anche l'allenatore aquilano si è esposto in prima persona per il nuovo stadio o lo stadio o vado via e conoscendo il carisma di Morgia questa non è solo una provocazione unità di intenti che sembra essere alla base quest'anno e anche un gruppo che già appare affiatato allenatore in seconda Federissimo di Morgia Michele Coppola preparatore dei portieri Angelo Porracchio che bene sta lavorando preparatori atletici qualificati e mister Renato Greco che allenerà la Lignores ex giocatore anche lui di Morgia che si allenerà regolarmente con la prima squadra mancano ancora tasselli poi ci sarà la presentazione sperando di ricucire con i tifosi un rapporto essenziale il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani puntuale alle 14 grazie per essere stati con noi grazie a tutti grazie a tutti